Desidera anche lei fornire ai suoi pazienti una protesi di alta qualità in sole tre sedute e a costi contenuti? Con le protesi digitali Strauman Kares Denture ciò è possibile. Durante la prima seduta presso il suo studio esegua la ribasatura della protesi esistente del suo paziente. Poi esegua la scansione di protesi e arcate da entrambi i lati. Quindi fotografi il viso del paziente che può rimanere in piedi o sedersi e deve tenere gli occhi aperti. Deve ottenere un'immagine con la linea del sorriso e una con il retrattore. Infine invii i dati al nostro laboratorio dentale Etcon in Svizzera a Reinfelden. Al ricevimento dei dati del suo paziente il nostro laboratorio dentale Etcon gli elaborerà e progetterà la protesi corrispondente. Successivamente nello stabilimento di produzione sarà realizzata la protesi Try-In che sarà di nuovo inviata al suo studio. Durante la seconda visita viene eseguita la prova della protesi sul paziente. Se la protesi è corretta lei invia un'approvazione del prodotto a Etcon. Se è necessaria una correzione è sufficiente inviare i relativi dati a Etcon. Presso Etcon saranno eseguiti gli eventuali adattamenti, quindi sarà realizzata la protesi che verrà infine comodamente inviata al suo studio. Durante la terza seduta può già posizionare la protesi finale nella bocca del suo paziente. Doni ai suoi pazienti un sorriso spensierato e inizia anche lei a utilizzare le nostre protesi digitali Strauman Cars Denture. Invia una richiesta all'indirizzo www.strauman.ch.denture-it Grazie a tutti.